ok e partiamo con la preparazione della nostra acqua di freddo con tanto di collardina abbiamo un fratto per la mantellina in vinilo rossa per tutti gli amanti delle mantelline in vinilo vero aroma a capoccia? ci piace la rossa non chiuderà tantissimo ci vorrebbe un velcro che deve fare una trasformazione per aggiungere del velcro per chiudere di più per i colletti piccoli per gli uomini ecco qui ripuliamo questa zona in modo decolluso lasciamo il ciuffone lungo senza problemi vediamo qui la pettina è giusto per riorginarci ma sarà un nodo infatti tutti i nodi vengono al pettine è cresciuta questa pettina io ma se sono dolce come un babà non diciamo tavanate grazie ok preparazione fatta e adesso mi preparo per il vino non 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 non